Innanzitutto con questo tipo di approccio il lavoro aumenta, perché naturalmente il lavoro ben fatto non è mica solo quello del lavoratore, eppure quello dell'imprenditore. Per esempio nel mondo del lavoro ben fatto il lavoro nero non esiste, i neri che muoiono nelle campagne per 8 euro all'ora, le donne e gli uomini non esistono, non è il lavoro ben fatto, non è che il lavoro ben fatto io mi mangio il pomodoro, però quello lì che ha fatto il pomodoro ha lavorato 14 ore sotto il sole per 8 euro, non è il lavoro ben fatto, il pomodoro è saporito ma è un'altra cosa. Allora innanzitutto ci sta come dire più lavoro, il lavoro ben fatto è da parte come dire riguarda anche i politici, cioè guardate l'esempio è facile, voi pensate una piccola città dove quello che pulisce la strada fa bene il suo lavoro, il sindaco fa bene il suo lavoro, ci insegna fa bene il suo lavoro, gli fa il vincito fa bene il suo lavoro, gli fa il muratore fa bene il suo lavoro, basta questa caratteristica qui, moltiplicata per tutti i lavori che esistono e funziona tutto, e c'è bisogno di altro lavoro, cioè noi ci stanno degli esempi, nel libro facciamo degli esempi, perché ci stanno degli esempi in cui con questo tipo di approccio tu ci davi Steve Jobs, cioè Steve Jobs è uno che il padre adottivo, Paul Jobs, gli ha insegnato che bisognava fare bella pure la parte di dietro degli armati, quella appiccicata al nudo che non si vedeva. Lui voleva dai suoi ingegneri alla Apple che facessero bene pure i componenti che stavano dentro, le scatole chiusse che non abbiamo mai potuto aprire, il PC si apre, il Mac no, c'era questa favola in giro che non si poteva aprire. Quando qualche ingegnere gli diceva, scusa ma perché deve essere bella se nessuno la vede? Lui associava la bellezza al ben fatto, perché facendola bella la fai pure bene. Allora questo è il discorso, vale per l'imprenditore, vale per il sindaco, vale per tutti.